Se io vi dicessi di improvvisare una musica romantica io potrei fare un monologo sulla vostra musica così ne facciamo un disco Le persone fanno così saltano sperando che Dio li faccia volare perché altrimenti cadiamo giù come sassi e mentre precipitiamo ci chiediamo ma per che diavolo sono saltato giù? Ma eccomi qua precipito e c'è solo una persona che mi fa sentire in grado di volare e sei tu